Il motivo per cui ho deciso di far parte di Top Doctors è che non si può ignorare la necessità di essere presenti anche nel web. Questo può avvenire in modo spontaneo, individualista o anche dilettantistico, ma ogni cosa ormai ha la sua specifica codificazione. Inoltre devo dire che più passa il tempo e meno tempo ho a disposizione per dedicarmi alla creazione del sito, quindi avere una società seria, qualificata e selettiva che mi dà un aiuto che io posso regolare nel modo che preferisco, trovo che sia utile dal punto di vista pratico e anche semplice. Come dicevo, Top Doctors mi ha aiutato innanzitutto nel migliorare la visibilità, che non vuol dire tanto pubblicità, quanto vuol dire essere presenti, sapere dove essere trovati prescindendo dalla istituzione dove si lavora, avere una maggiore disponibilità anche verso un colloquio che può essere mediato proprio dal web, ma scelto dal paziente nel momento in cui ne ha realmente bisogno, ovviamente dando la dovuta disponibilità. Questo è ovviamente un vantaggio sia per il medico che per il paziente. Quindi migliorare la comunicazione è utile sia per il paziente sia per il medico, si ha un vantaggio reciproco e poi c'è anche l'aspetto organizzativo che non sempre e direi quasi mai sono io personalmente a prendere ad esempio gli appuntamenti, così come la struttura nel cui ambito lavoro può a volte non poter compiere totalmente questo incarico. Quindi il fatto che ci sia una struttura direi parallela ma ugualmente valida di sostegno è sicuramente un eccellente ausilio per la mia professione. Consiglierei Top Doctors direi per la serietà della società perché ci sono molti servizi a disposizione, direi che sono molti, a volte è anche difficile fare una buona scelta. Devo dire che mi sono trovato bene perché sono stato assistito ma non sono mai stato assillato da chi mi ha aiutato nelle richieste di comparire più o meno maggiormente. Quindi mi sono trovato bene con poche parole e soprattutto con i risultati che ho avuto. La pubblicazione di articoli permette l'evidenziazione di un dato di fatto reale su quello che si fa, che non è più un fatto pubblicitario, ma è documentato da ciò che viene realmente fatto e pubblicato, come del resto è nella procedura scientifica quotidiana, quindi non basta dire le cose o dire che si fanno, ma vanno anche documentate in modo sufficientemente chiaro da un punto di vista scientifico, ma anche come informazione pubblicitaria che sia corretta, semplice e non enfatizzata. Quindi in questo senso credo che gli articoli che ho pubblicato con l'aiuto di Top Doctor potessero svolgere bene questo compito. La valutazione del paziente in ambito digitale è un metodo di misura che il paziente può usare liberamente per esprimere il consenso e il dissenso ed è anche un parametro che si può obiettivamente tenere in conto per regolare meglio la propria attività sotto ogni aspetto. Quindi è sicuramente utile da tanti punti di vista. Credo che il consiglio che posso dare è di vedere in internet un'opportunità che bisogna saper usare nel modo migliore e come ho già detto non deve portarci via troppo tempo. Quindi in questo senso una società qualificata che ci assiste senza sovverchiarci, ma aiutandoci in quelli che sono i nostri desideri e le nostre esigenze, è sicuramente di aiuto non solo quando la nostra attività è già avviata, ma probabilmente ancora di più quando è all'inizio. Grazie. Grazie.